Sesta corsa, il clou del convegno di oggi, premio Golden Top, miglio per anziani categoria B e C, prima fila per Voyager, Griff e Gianpaolo Minucci, Regano Dele di Cristian Fracassa, Zippa Didù, Davide Di Stefano, Voltergi Font, Santo Mollo, Zeo Stecca, Raffaele Palomba, Amelicio Gette, Catano Di Nardo, Virtuale, Antonio Di Nardo, seconda fila, Zaire Weiss, Alessandro Gocciador, Umberto Axe, Romolo Sani, Al Capone, Stecca, Enrico Bellei. Rinuncia al lancio virtuale, dall'esterno il più veloce, Amelicio Gette, deve vincere l'opposizione di Uragano Dele di, operazione che riesce facilmente ad Amelicio Gette, che come era probabile si porta a condurre, lo fa senza neanche spesa eccessiva, ma il parziale d'avvio. E' stato in 12.6 per il cavallo di Gettano Di Nardo, che precede Uragano Dele di, terzo in corda c'è Voltergi Font, sbaglia Zaire Weissass, nelle retrovie, all'esterno è rimasto Zeus Stecca, che offre la scia virtuale, e a Umberto Axe, che costringe in terza ruota Zippa di Du, in corda in coda c'è Voyager Griff, insieme ad Al Capone Stecca, che prova anch'esso la terza ruota dietro a Zippa di Du. Virtuale Lewis ha girato Zeus Stecca e va a diretto contatto di Amelicio Gette, che giunge al paletto di metà gara in 58, scarso, ma d'altronde sono tempi normali per questi cavalli, lottano Amelicio Gette e Virtuale, davanti a Uragano Dele di e Zeus Stecca, prova la terza ruota al Capone Stecca, con Virtuale che intensifica la pressione su Amelicio Gette, insiste in terza ruota al Capone Stecca, che va al lato di Uragano Dele di e Zeus Stecca, poi Voltergi Fonta alla disperata ricerca di un Varco, ancora Zippa di Du, la retta d'arrivo vede Virtuale intensificare la pressione su Amelicio Gette, si libera nella scia Zeus Stecca, poi sempre al Capone Stecca, passato di slancio, Virtuale che allunga e prende vantaggio, nei confronti di Amelicio Gette e poi ancora Zeus Stecca, molto bene in quota, poi al Capone Stecca, Virtuale che si stacca e domina fino al palo, sta volando questo cavallo, vince davanti a Zeus Stecca, poi tardi ma forte, come sempre finisce Umberto Axe, che era rimasto un po' impelagato nelle retrovie, ma quando ha visto luce è finito alla grande, Virtuale vola, 1.54.9 sul mio cronometro, significa media di 1.12 e poco più per l'allievo di Gennaro Casillo con Antonio Di Nardo, che rinuncia al lancio ma poi sviluppa tutta la sua potenza nel chilometro finale, segue molto bene al traguardo Zeus Stecca che non ha mai visto la corda perché l'è spinto al Via d'Americio Gette, al terzo, gran finish di Umberto Axe e allora 7.59 l'arrivo ufficioso della sesta di Capanelle. Grazie.